Canicattini in bagni dopo oltre 80 anni e una struttura moderna si inaugura il nuovo stadio comunale in erba sintetica. Verrà inaugurato domenica 13 novembre con inizio alle 14 il nuovo stadio comunale in erba sintetica del comune di Canicattini in bagni presso gli impianti sportivi di via Solferino. Assieme al sindaco Paola Menta, alla giunta, alla presidente del consiglio comunale Loretta Barbagalli e a tutto il consenso civico canicattinese sarà presente quale testimone dell'evento il dottor Rodolfo Tavana, indimenticato medico sportivo del Milan degli anni 90. Con loro in quella che l'assessore allo sport Salvatore Di Mauro annuncia come una giornata di festa per la città di Canicattini in bagni che dopo oltre 80 anni degli anni 30, quando venne realizzato l'attuale campo sportivo in terra battuta, ha finalmente una struttura sportiva moderna con il manto erboso e nuovi spogliatoi e servizi progettato dall'ingegnere Sebastiano Roccazzello e realizzato dal consorzio di imprese RT, CAI, Ascavi e SRL, Fratelli Anastasi e SRL di Priolo presenti all'evento. Ci saranno i tecnici comunali, i comandanti della locale stazione dei Carabinieri e della Polizia Municipale, le due squadre di case, il Canicattini che milita in promozione e la Canicattinese che milita in terza categoria con tutti i loro settori giovanili e i tanti ex calciatori che negli anni hanno calcato quello storico campo sportivo accompagnati dalle marce del corpo bandistico Città di Canicattini-Bagni e la presenza delle realtà associative ai cittadini, ai gruppi e ai cittadini, dopo che l'amministrazione comunale, lavorando a ritmi serrati, è riuscita ad avere l'autorizzazione per l'accesso del pubblico nella nuova struttura calcistica anche per le partite di campionato.